50 giorni Numero 88 Ammonita Campagna di meno 48 Prossimo passaggio a prima eliminazione C'era anche dallo scuso Eliminazione del passaggio Numero 108 Salita Camara di meno 46 Però dovevi avvisarmi quando partite Ma devo correre io Eliminazione del passaggio Numero 94 Campagna di meno 44 Eliminazione Eliminazione 2,7,2 Campagna di meno 42 Numero 61 1,6,1 Meno 40 Eliminazione 2,2,5 Campagna di meno 38 Campagna di meno 38 11,1,1 Campagna di meno 38 Campagna di meno 39 Eliminazione Numero 53 Prossimo passaggio a prima eliminazione Per scornettese Numero 53 Per scornettese Eliminata per scornettese Purka go Purka go Purka Purka Parate meno 36 2, 9, 3 2, 9, 3 2, 8, 1 2, 8, 1, 2, 8, 1 2, 8, 1, 2, 1 Eliminazione 46 Staviamo di fuoco! Campania del meno 30 Vai su! Eliminazione Numero 105 Siamo alla torta di Vino 28 Eliminazione 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 Numero 300 Campania del Vino 26 Campania del Vino 26 Eliminazione 208 Siamo alla metà gara Ma Campanati numero 24 Eliminazione Campanati numero 22 Campanati numero 24 numero 74 campare meno 20 numero 82 seconda munizione entra in diffida siamo all'eliminazione numero 19 2-2-1 campana di meno 18 3-3 c'è Quiglini e Giana e Montiero io e due Montiero eliminazione numero 200 numero 206 a punita campana di meno 16 eliminazione eliminazione 1-6-6 campana di meno 14 10-16-6-6-6 mabbiamo mahdolligiale ! 5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-7-7im1-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-民-8 eliminazione due, quattro, dove? Aspetta la caduta! Occhio! Ciao a Campania, meno dodici, ma attenzione alla caduta! Numero 82, caduta, quindi salta la prossima eliminazione, non si elimina meno undici, non c'è eliminazione al passaggio! A Campania, meno dodici, non c'è eliminazione al passaggio! Il passaggio eliminazione al passaggio, eliminazione al passaggio! Due, due, sette! Ciampano di meno, otto! Numero 88, seconda abunizione in tre di sfida! Abunita numero 3! Eliminazione intanto al corso! Uno, cinque, nove! Campana di meno sei! Seguita, seguita! Eliminazione di meno cinque! 2-9-2! 2-9-2! 2-9-2! Loiale! Loiale! Eliminazione! Eliminazione a questo passaggio! 2-0-6! Si elimina anche il prossimo giro! E' un'altra! Mi fa semplice! Un'altra! E' un'altra! Iliminazione! 2-7-1! prossimo giro ancora eliminazione campana dell'ultimo giro campana dell'ultimo giro eliminazione numero 62 62 si può fermare siamo nel primo giro provato